Far sentire a casa i bimbi che vanno a vaccinarsi. E' questo lo scopo di Abeo Vax, lo spazio accoglienza del polo vaccinale di Via dei Toscani dove Abeo ha dato il suo tocco per rendere l'ambiente più familiare e sereno. Ma non è finita qui. Non abbiamo ancora finito, abbiamo ancora altre piccole cose come dare un gioco, come fare in modo di essere lì con loro, con dei volontari, leggere un libro, insomma delle cose che servono per poter agliettare quel momento. Quindi abbiamo fatto una parte, l'80%, dobbiamo fare ancora il resto. Una collaborazione quella tra Abeo e ASST che dà valore aggiunto, creando le condizioni per stare in un ambiente più piacevole e colorato a misura di bambino. Questo significa creare le condizioni per fare quello che noi non siamo in grado di fare, cioè occuparsi di qualcosa che va oltre la cura ma al prendersi cura, quindi a prendersi davvero, preoccuparsi anche di altri aspetti che non sono solo quelli strettamente legati alla salute o alla prevenzione. La campagna vaccinale prosegue con numeri che si attestano nel Mantovano poco sotto la media regionale. Ma ora quello che è necessario, commenta Antonietta Giardino, responsabile vaccinazione ASST Mantua, è di tranquillizzare chi ha paura del vaccino, non i totalmente contrari, ma coloro che sono ancora indecisi. E per i genitori che hanno ancora dubbi sul vaccino per i più piccoli, questo è il messaggio. Possiamo dire di essere sereni, perché gli studi sono stati fatti tanti prima di mettere in commercio il vaccino e sono stati fatti tante somministrazioni, anche gli ultimi rapporti che è uscito sull'AIFA, gli effetti collaterali sono veramente pochissimi e più delle volte cose comunque passeggere, la febbre è alta, il dolore al braccio, ecco, e invece la malattia anche nei più piccoli ha dimostrato che essere veramente molto pericolosa e anche con dei ricoveri importanti anche nei bambini piccoli. Alla presentazione di Aveovax anche Marcello Casalini sa il leader di Figlogistiche che da subito ha creduto nel progetto e lo ha sostenuto economicamente.